insieme digital champions ti aspettiamo il 6 giugno a modena per una giornata di incontro con tutte le donne che hanno un piede dentro un piede fuori la tecnologia ma in realtà vogliono far parte della partecipare all'innovazione e quindi abbiamo costruito questa cassetta degli attrezzi in modo tale che ciascuna di noi può andare a casa con qualcosa in tasca e migliorare le proprie competenze crescere professionalmente insieme si può fare